Io lo devo fare, il mio backstage è con la mia fidanzata, va benissimo, mi dispiace, siamo ancora fidanzati così molto allontani, spero, prima o poi, insomma. Un commento su questo momento delle auguri? Un commento positivo, la sesta vittoria consecutiva, il terzo posto, quindi Coppa a portata di mano, quindi direi che veramente quando sarà grande, Piore è un grande, che vuoi dire di più? Spero che continui così.